I migliori in campo dell'intera stagione calcistica e le loro squadre saranno loro i protagonisti per una notte. Torna per la seconda edizione il Gran Galà del Calcio Dilettanti a Retino che si svolgerà giovedì 19 maggio alla Casa dell'Energia. È stato un anno bello e impegnativo dal punto di vista lavorativo, con la pazienza anche di colleghi e amici. Ci daranno e hanno dato una mano fino ad ora per il Galà, penso ad Elettra Fiorini, penso a Marco Cavini, però ad esempio anche una delle novità che è stata portata quest'anno come la trasmissione zona di lettanti è stato anche frutto anche della pazienza stessa, penso, dei tecnici di Arezzo TV perché non è stato facile star dietro a tutte le grafiche e quant'altro. Quindi è stato un lavoro a 360 gradi e poi sicuramente guardando i risultati magari ci sono state meno vittorie rispetto allo scorso anno, qualche episodio di violenza da condannare fermamente, però nel complesso Arezzo si conferma una delle province più importanti nel panorama calcistico. Saranno premiate tutte le società che si sono particolarmente distinte dalla terza categoria, l'eccellenza e i migliori arbitri. Novità di questa edizione il premio Angelo Gori per il miglior portiere del campionato di promozione e la categoria riservata al calcio femminile. È stata appunto voluta questa nuova categoria riservata appunto a un movimento che sta crescendo con numeri importanti ad Arezzo del calcio femminile, quindi andremo a premiare non solo la miglior squadra retina di serie C-Toscana, ma andremo a premiare anche la miglior marcatrice. E poi per il resto la formula rimane con la premiazione dei migliori settori giovanili al pomeriggio a partire dalle 17.30, e poi la sera a partire dall'ora 21 il premio giornalistico, gli arbitri, le prime squadre. Questo non significa che verranno premiate solo le squadre che hanno vinto i campionati, ma anche squadre che magari hanno ottenuto un secondo, un terzo posto, ma che per piccoli centri, piccole realtà, magari certi piazzamenti in classifica sono e contano quasi più di una vittoria in campionato. Il Gran Galà del calcio di Lettanti a Retino sarà trasmesso dalla nostra emittente venerdì 20 maggio alle 21, sabato 21 maggio alle 18, domenica 22 maggio alle 15.30 alle 22.30 e infine lunedì 23 maggio alle 21.00.